Sappiamo che incontriamo una squadra di valore e quindi mi aspetto la massima concentrazione, il massimo impegno per una prestazione, vorrei vedere una grande prestazione, una crescita sul piano fisico e della manovra. Siamo a un mese, praticamente domani è un mese che lavoriamo insieme, quindi spero che ci siano dei miglioramenti, un giocatore che può giocare tutti e tre i ruoli d'attacco, un giocatore che ha forza, qualità, fa il caso nostro.